Je pense Alla Zani Io sostengo che Gol è quando l'arbitro lo convalida E fischia E porta palla a centro campo Ed è gol, punto Perché la palla fa Di questo, cioè fa questo rotatorio Che potrebbe dare l'inganno Con un effetto Con un effetto E' un effetto Per far parlare L'Ogumentino Per far parlare L'Ogumentino e il Laziese Ah capisci Però l'è gol Anche perché lo sai che avvalora l'è gol Che Skies Non fai ferma immagine Perché mi fa vedere 40 volte l'immagine Ma non mi fa Ci sarà la tecnologia Ma secondo me non c'è la tecnologia Ma secondo me non c'è la tecnologia E poi Giangio perché Quattro telecomandi Perché l'Occhio si è abituato In un periodo di crisi Quattro telecomandi è proprio un insulto Giangio dentro questa casa non ci sono quattro telecomandi Non è possibile No questo Perché se tu li lasci Perché quattro Si li rivolgono Tu li tieni vicini Si telecomandano Femmina Maschio Si tastano Osmosi Si tastano Perché quattro Te ne troverai tutta una guardia Attenzione Sono come i conigli Sono peggio Sono come i topi Sono come i dati Te ne ritrovi una famiglia In questa casa Giangio Sono due decoder Quattro telecomandi Secondo te sto male Hanno decodificato Hanno decodificato Goll è quando l'arbitro convalida Ma soprattutto Goll è quando la palla supera la riga E non è che perché fa di questo Non è golla Per far parlare un po' Lo giumentino Palla palla Filoudinese Bella per te Viva la vita Viva la vita Però siamo ancora al primo tempo Lei è lunga Zombie sigaretta Ti fa male Bella per te